Remote viewers predicono disastri naturali e eventi legati alla ISO La visualizzazione a distanza è la pratica che viene utilizzata da operatori, persone, che hanno sviluppato dei poteri mentali, e si basano appunto su un bersaglio distante o invisibile, presumibilmente usando la percezione extrasensoriale . No sensing bit mind. LRV è utilizzato per trasferire informazioni percettive attraverso il tempo e lo spazio. È chiaro che la visione remota funziona in completa violazione delle leggi accettate della fisica quantistica e relativistica. La comprensione scientifica del fenomeno della visione a distanza è notevolmente migliorata negli ultimi anni, e di conseguenza il processo di RV può essere dimostrato come affidabile sia in impostazioni operative e di laboratorio. . Oggi la RV viene utilizzata dai servizi segreti dei maggiori governi mondiali, attraverso appunto soggetti predisposti alle ESP. . Anche se la visione a distanza non ha ancora guadagnato laccettazione ma estrema, in passato ci sono state molte sedute in cui un visualizzatore a distanza ha dato informazioni su un oggetto, una persona, che si trovava ad una distanza molto elevata, oppure in un luogo sconosciuto. . La remote v. Può servire anche per predire o sapere di evento imminente, che poi nella maggior parte dei casi si è rivelato essere vero. . Il mese scorso durante una sessione di osservazione a distanza di tre membri dellistituto Farsiget, hanno ricevuto informazioni che parlano del mese di marzo 2017 come un punto di partenza di una seire di eventi apocalittici che secondo i remote viewers, cominceranno adesso. Marzo 2017 non va bene. . . Questo è quello che dicono. . Operatore 1 remoto di nome Dick dice. . Evento acqua, muro dacqua acqua che scorre attraverso una struttura, forse ponte, le persone soccorse da elicotteri, inondazioni, lacqua in aumento, le strade scompare. . La gente in fuga, nessun posto per fuggire dalle inondazioni, la gente muore, sacchi e contenitori per i cadaveri. . . Evento spaziale, legato alla Stazione Spaziale Internazionale, forse la perdita di pressione o un problema di energia elettrica, malfunzionamenti del computer. . I sparti distinte o pezzi spostamento dell'equipaggio di un'altra parte della isola fuga con nevetta spaziale? Suona familiare come il film Gravity. . Operatore 2 dice. . . Città circondata da un grande specchio d'acqua, acqua salata, chiusa al congelato, ghiaccio e neve, molto insolita per questo periodo dell'anno fumo, fuoco e danni connessi tempesta. . Verde collinare villaggio città, la gente correre, fumo, forse incendi boschivi, caos, rumore ruggente detriti danni, le persone tristi. . Operatore 3 a zi dice. . Qualcosa di metallico e sul mare la gente la gente reagisce a una situazione, el metti maschere, le barche su un mare, situazione di stallo tra navi, 24 ore situazione in seguito potrebbe essere risolto, su una barca? . Una piattaforma di metallo, roba che vola su e cadendo su questo ragazzo, evento sorprendente e sconvolgente. . Ragazzi con el metto che lavorano su una piattaforma che cadenso lascia un grande cratere. . 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 Grazie a tutti